La prima relazione è del professor Antonio Golini, professore merito di demografia della Sapienza Università di Roma e accademico dell'Incei. È stato presidente della Facoltà di Scienze e Statistiche, presidente della Commissione per la Garanzia dell'Informazione Statistica, unico italiano presidente della Commissione su popolazione e sviluppo delle Nazioni Unite a New York, nonché penultimo presidente dell'Istat. Il professor Golini ci presenta una relazione sulle trasformazioni demografiche dall'unità a oggi, cercando di rispondere in qualche modo a quei siti, tra i quali i mutamenti demografici insieme con quelli del mondo produttivo e nella struttura familiare e sociale, richiedono una nuova e diversa, un nuovo e diverso ciclo di vita delle persone e tra l'altro le trasformazioni in atto, come sono, come dire, assorbite, rielaborate dalla demografia? Prego. Valerio Terrabrami, a nome del Presidente, mi invitò per questo convegno, i 90 anni dell'Istat, mi chiesi, ma io con l'Istat da quanti anni sono in relazione, di questi 90 anni, quanti ne ho vissuti insieme? E così sono risalito, udite bene, al 1957, quando da studente del secondo anno della facoltà, feci una tesi che prevedeva lo spoglio qui presso questo palazzo, il salone, un grande salone, in cui si codificava una parte del questionario del censimento del 51 e da quei dati inediti frutto delle nostre codificazioni ed elaborazioni venne fuori la tesi di diploma in istatistica. Quindi pensate un po', dal 1957, insomma sono quasi due terzi dei 90 anni che celebriamo oggi. Vorrei che però fosse chiaro, Presidente, che dei messaggi, e mi rivolgo anche alla dottoressa Cacioli, che dei messaggi che vanno fuori, si sottolineasse che i 90 anni sono dell'Istat, ma della statistica ufficiale, noi abbiamo 150 anni e passa di dati e rilevazioni. E non vorrei che magari giornalisti distratti o lettori disattenti pensassero che la statistica italiana è nata 90 anni fa. Bene, considerando il tema che ci è stato assegnato, ci limiteremo oggi a tratteggiare soltanto alcune delle trasformazioni demografiche di lungo periodo e a valutarne qualche conseguenza. E questo sia per il rispetto tempo a disposizione, sia perché sul tema esistono assai larghe messe di studi che hanno già ampiamente approfondito tale problematica e alla quale oggi possiamo fare solo ridotto questo riferimento. E il guardare alla lunga serie storica del saldo naturale, del saldo migratorio, del saldo migratorio e dall'unità a oggi si nota come le tendenze delle due variabili aderiscono sostanzialmente allo schema della cosiddetta transizione demografica con un passaggio dei due tassi dal 35 a 30 per mille di 150 anni fa a valori piatti del 10 per mille ormai da più di un quarto di secolo. La combinazione di queste due tendenze, insieme con quella delle migrazioni internazionali pesantemente in uscita fino agli anni 70 del secolo scorso e poi moderatamente in entrata, hanno, come è del tutto ovvio e ormai ben noto, condizionato la crescita e modellato la struttura della popolazione italiana, oggi la più vecchia al mondo, insieme con quella tedesca e quella giapponese. Un processo, quello dell'intenso impeccamento, che si è accentuato dal secondo dopoguerra, periodo al quale rivolgeremo anche in via cooperativa, particolare attenzione. Ecco, da questi grafici si vede come le nascite siano rimaste intorno a un milione l'anno dall'unità fino a poco dopo il 64 e poi sono scelte già a partire dalla fine del secolo scorso intensamente fino a 500 mila l'anno o poco più negli ultimi decenni. E quindi è crollato il saldo naturale della popolazione, il saldo totale della popolazione italiana, ha seguito per 100-110 anni come andamento quello naturale, ma in misura più ridotta per effetto di un salto migratorio sempre negativo fino a qualche tempo fa e in alcuni decenni fortemente negativo. Soltanto alla fine del ventesimo secolo e poi nel ventunesimo secolo un intenso saldo migratorio positivo ha innalzato un saldo naturale che ormai era zero da una ventina d'anni. Questo intrecciarsi di tendenze contrastanti ha significativamente segnato lo sviluppo della popolazione italiana, il cui tratto più rilevante è da qualche tempo quello, come si diceva, in un suo assai intenso invecchiamento, frutto in particolare del ridottissimo numero di nascite per un paese di 60 milioni di abitanti. fra i grandi paesi europei l'Italia è quello che ha subito dal secondo dopoguerra ad oggi le più intense oscillazioni nel numero di nascite che sono passate, come si diceva, da oltre un milione del 64 a poco più di 500 mila. Velocissima, oltre che molto intensa, è stata in particolare la loro discesa tra il 64 e l'86. Annamenti simili, ma di gran lunga meno ampi, si sono verificati anche in altri due grandi paesi europei, Francia e Inghilterra. L'Italia, che fino alla metà degli anni 70 aveva tre paesi qui considerati in maggior numero di nascite, oggi ne ha in meno numero. Questo significa, fra l'altro, che in misura significativa ha dovuto via via adattare, non sempre riducendosi appieno, le proprie strutture neonatali, sanitarie, scolastiche e del mercato del lavoro a oscillazioni tanto intense. Il comportamento fecondo delle donne in Italia è stato del tutto simile a quello delle inglesi e della francesi, dal secondo dopo guerra, fino al 78-80. Poi, mentre le straniere hanno conservato un comportamento procreativo più o meno costante e molto prossimo al tasso di sostituzione, quelle italiane hanno visto diminuire la propria fecondità fino a 1-19, che è il più basso valore della storia per una popolazione di grandi dimensioni. Valore che è poi risalito negli anni recenti fino a poco più di 1,4 figli per donna, soprattutto grazie al contributo e alla più alta fecondità delle donne straniere. Questa slide e quella precedente relativa all'uno delle nascite lasciano intendere quanto profonde siano state le conseguenze di breve, medio e lungo periodo, fra le altre, sulla struttura per età della popolazione italiana. Un caso del tutto peculiare costituito dalla Germania è così come la sua storia politica, come sappiamo tutti divisa in due fino all'89 e quindi con una variabilità della fecondità per quanto riguarda la Germania dell'Est molto intensa, prima molto più alta della media europea e poi invece con una fossa delle Marianne che si è avuta dopo l'89. Il fatto è che le donne della Germania dell'Est erano condizionate fortemente dalla politica e dalla politica del governo della Germania orientale e dopo l'unificazione c'è stato una sorta di rimbalzo perché evidentemente si sono sentite liberate da quel peso politico forte che condizionava la loro attività procreativa. Il tratto più rilevante della caduta della fecondità italiana riguarda le donne fino a 40 anni, che vuol dire che si è spostata, come sappiamo bene, si è spostata in avanti l'età media alla nascita di un figlio e quindi il numero medio di figli per donna fino a 40 anni risulta di gran lunga e inferiore a quello per esempio di Francia e Inghilterra. Questa è stata conseguenza non solo del forte innalzamento dell'età matrimonio, anche in conseguenza della difficoltà delle donne a entrare nel mercato del lavoro, sia in conseguenza di un processo culturale, operativo e organizzativo che ha spinto le donne italiane a rimandare sempre di più la nascita di un figlio. E all'interno dell'Italia si osservano delle tendenze straordinariamente significative. Nell'immediato dopoguerra, nell'Italia meridionale e nell'Italia insulare, il numero medio dei figli per donna era di circa 3,2 e quello di Liguria, Piemonte, del cosiddetto triangolo industriale era intorno a 1,6. Quindi la fecondità delle donne meridionali era il doppio di quella delle donne del triangolo industriale. E poi come potete vedere dal grafico le tendenze si sono omogeneizzate e oggi l'andamento è del tutto simile, nel mezzogiorno del tutto simile a quello dell'Italia nord-orientale. Quindi questa è stata, secondo me, una delle trasformazioni più significative della demografia italiana. Il fatto è che il mezzogiorno, qui è il saldo naturale delle ripartizioni italiane, e guardate quanto è grande la differenza tra il saldo naturale del sud, del mezzogiorno dell'Italia meridionale rispetto alle altre Italie, in particolare il secondo dopoguerra. Tutta il grafico mostra chiaramente come tutta la superficie che sta fra la curva dell'Italia meridionale e la curva delle altre Italie, ha rappresentato la riserva di mano d'opera in Italia per lunghi decenni e ha costituito anche la riserva di mano d'opera per l'intera Europa, grazie, tra virgolette, alla emigrazione italiana molto intensa nei confronti degli altri paesi europei. Ora, la conseguenza è stata questo indice di vecchiaia che si è innalzato moltissimo. Ho tratto questo grafico da una pubblicazione Istat all'Italia in 150 anni, l'ho fatto anche per una sorta di narcisismo, avendo fatto parte della commissione che studiò quell'evento e avendo spinto per fare quelle analisi che compaiono in questo prezioso annuario dell'Italia in 150 anni e quindi nel 2009 il rapporto percentuale tra la numerosa popolazione di 65 anni oltre, 22% sul totale, e la ridotta o ridottissima popolazione da 0 a 15 anni, 14%, ha raggiunto un valore elevatissimo pari a 170 donne anziane per 100 giovani e per il sesso prescrive si è arrivata a 120. Ora, se sappiamo che la durata media della vita arrivasse a 100 anni, 90-95 anni, dei quali passati inaccettabili condizioni di salute fisica e mentale, è del tutto immaginabile, anzi auspicabile, che ridisegneremo il ciclo di vita per come è concepito e vissuto oggi. Oggi con una trentina di anni di formazione, poi con circa 40 anni di creazione della famiglia di lavoro per il mercato e poi con 20-40 anni e anche più di pensione, tenendo conto anche del processo di reversibilità. Ora, per l'Italia la principale conseguenza, dicevo e ribadisco e sottolineo, conseguenza demografica del prolungato, ridottissimo numero di nascite, è quella di avere oggi tra i grandi paesi europei il più elevato indice di dipendenza degli anziani, laddove nel 50 era il più basso, l'Italia è la curva rossa, quindi si vede come al 50 la curva rossa dell'Italia era inferiore a quella di tutti gli altri grandi paesi europei e invece nel 2015 è più elevata di quella di tutti gli altri paesi europei. Questa crescita così veloce dell'indice di dipendenza, insieme con le profondissime variazioni nella struttura produttiva e in quella tecnologica, vanno imponendo, come si diceva, una non minore e profonda trasformazione del ciclo di vita delle persone. La grande rivoluzione demografica, lo ricordava anche Salvatore Strozza prima, che si è avuta e si sta avendo nel nostro paese nelle nascite e nella struttura per età, è corso e corre in parallelo con la profonda trasformazione produttiva. Da qui il forte declino dapprima della popolazione addetta all'agricoltura e poi di quella addetta all'industria e la fortissima crescita di quella addetta ai servizi e infine l'elevata quota a specie fra i giovani e la popolazione priva di occupazione. Questa grande rivoluzione demografica è corsa in parallelo anche con due grandi trasformazioni sociali, delle migrazioni da un lato con l'Italia che, come sappiamo bene, è passata da paese di grande immigrazione con l'estero a paese di consistente immigrazione e nel quale le grandi immigrazioni interne si sono attenuate. E l'altra trasformazione riguarda la famiglia con matrimoni sempre più ridotti e tardive, convivenze in aumento, incremento anche delle rotture dei matrimoni e delle unioni, intensa riduzione delle nascite e stessa sopravvivenza di coniugi, coesistenza sempre più diffusa e prolungata di tre e anche di quattro generazioni. Il presente e il futuro prossimo venturo. In conseguenza di tutte le rivoluzioni in atto, la società italiana è costretta a un continuo e intenso processo di adattamento alle recenti e incessanti mutazioni endogene e esogene, tra cui nuove condizioni socio-economiche e tecnologiche, oltre che evidentemente quelle demografiche. E' adattamento che non sempre riesce pienamente e tempestivamente, tra l'altro perché l'adattamento richiede tempo, gradualità, adeguata preparazione, accurata informazione, energia vitale e corretta politica. Ma in generale tutte le società europee contemporanee si trovano in qualche affanno, non essendo sempre sufficienti, adeguate e tempestive, la disponibilità di tempo e delle altre risorse. Ed essendo sempre più presenti e pressanti, l'influenza, la partecipazione e il ruolo del resto del mondo, con particolare riferimento all'Africa, non continuativamente, dinamicamente e appropriatamente fronteggiabili, sicché l'affanno resta presente e con ogni probabilità è destinato ad aumentare. Grazie.